Beni per 26 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria all'imprenditore della grande distribuzione Giuseppe Chirico ritenuto in stretti rapporti con le cosche Tegano e Condello del quartiere Archie. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio presieduto dal giudice Ornella Pastore su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e del sostituto della DDA Stefano Musolino. Il decreto di confisca conferma il sequestro che la direzione distrettuale antimafia aveva disposto all'indomani dell'operazione fatta a Morgana condotta dalle fiamme gialle regine, un'inchiesta che aveva portato all'arresto dell'imprenditore le cui risultanze sono confluite nel maxiprocesso Gota. Secondo l'accusa con il costante appoggio delle cosche Chirico aveva potuto imporre lecitamente le proprie attività commerciali come la Soral che operava anche all'interno del centro commerciale Perla dello Stretto di Villa San Giovanni. Le indagini condotte dai militari al comando del colonnello Maurizio Cintura hanno consentito di accertare la sussistenza di una significativa sproporzione tra il reddito e il patrimonio del nucleo familiare di Chirico. Secondo il Gico e i finanzieri della compagnia di Reggio Calabria questo sarebbe stato possibile grazie ai redditi accumulati in qualità di imprenditore, espressione dell'andrangheta regina. Secondo gli inquirenti l'intero patrimonio accumulato da Chirico sarebbe derivato da attività illecite portate avanti sotto il manto dei Tegano e dei Condello. Oltre alla società Soral e al suo complesso aziendale il Tribunale ha confiscato anche i beni privati di Chirico e della sua famiglia.